Benvenuta a tutti e a tutte sul canale, nuovo video spesa e questa è la spesa del Carrefour. Abbiamo un ospite che ha deciso di farsi riprendere, la Audrey, eccola lì. E niente, come potete vedere è una mini spesa anche abbastanza, anzi direi poco salutare, volevo dire abbastanza poco, ma esatto, è molto poco salutare, ma dato che ho fatto, non so se questo video lo caricherò domani o dopo domani, comunque ho fatto o ieri o l'altro ieri, la spesa alla Cop con roba più sana, questa volta ho comprato altre cosine che ci servivano o meglio un po' più golose che non sono sane. Quindi niente, parto subito per farvi vedere quello che ho comprato. Allora intanto vi dico che ho speso, aspettate che prendo lo scontrino, allora 15,48 euro e ho preso. Questa confezione di biscotti della Balsini Cioccolabiz al latte che adoriamo. Questa confezione di Oreo dove ci sono quattro pacchettini per quattro Oreo Uno yogurt greco magro della marca Carrefour perché i faghe zero non c'erano Una pappina gourmet gold al coniglio da far assaggiare alle bambine, vediamo se le piace Una bottiglietta da mezzo litro di Coca Zero Due confezioni di pane da toast della Carrefour che erano in offerta Uno sgrassatore della Chanteclair che è anche disinfettante Le lenticchie che noi adoriamo, marchio Carrefour Due budini alla crema di vaniglia della Valsoia, quindi sono 100% vegetali Due confezioni di caramelle aribo, una alla Coca Cola e gli orsetti misti Ecco, questa è tutta la mia spesa poco sana di oggi Spero di avervi tenuto compagnia e che il video vi sia piaciuto La Audrey vi saluta e noi ci vediamo al prossimo video Ciao! Ciao!